Ci siamo, si tiene bene. Ottimo. Vi sentite? Sì, benissimo. Microfono? Microfono. Andiamo Principe. Allora oggi siamo venuti in piazza Principe Bonifacio Melilupi al civico numero 5 di Soragna per visitare un vero castello ma soprattutto per incontrare un vero Principe. Voi direte, beh lo sappiamo tutti che a Soragna c'è il Principe. E va bene, però siete mai venuti a trovarlo? Io oggi l'ho fatto. E sopra là c'è il ritratto di Cassandra Marinoni che è ancora qua perché il suo fantasma gira ancora qui. Il legno è isolante. Non potevano farlo il piastrello perché il piastrello è freddo e non c'era l'iscaldamento. Se no nel camino faceva poco. Ah beh, tutte le sale c'erano un camino. Ah certo. È l'unico modo per riscaldare. Non ho contatti. Con Buckingham Palace. Avevo conosciuto quando ero a Londra una volta, ero amico di Diana. Opa la, lei di dì. E quando mi ha raccontato, fai fermo ti ho detto una cosa, dimmi. Mi sposo? No davvero ti sposo. E con chi? Col principe Charles. Oh madonna. Ma è aperto al pubblico o no? Ma che rollo? No, non l'ha aperto al pubblico. Mia sorella si è sposata qui. Solo per i membri della famiglia. Io se mi voglio risposare posso sposarmi qua. Beh potremmo organizzare un matrimonio del principe. Sai che principe... Cos'è dice principe? Secondo me sì. Eh basta trovare la principessa. Ah 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 ah. ma qualcuno mi ha detto tanto dei castelli delle rocche queste cose si dicono sempre bisogna vedere se è vero che ci sono anche dei passaggi segreti fino a trovarli dico non sarebbero segreti no appunto con una scritta chi varca questa soglia muore entro l'anno e però non sappiamo dove è mio nonno l'ha varcata ed è morto entro l'anno e allora facciamo che noi rimaniamo fuori questa è la sala da pranzo qui c'era seduta mia madre mio padre io mia sorella quando è venuta margaret era assoluta lì io di fianco a lei mio padre non c'era già più loro mi ha chiesto what is this favo? è culatello mamma culatello? what is culatello? allora spiega che è il culatello è il filetto del prosciutto la parte interna alza della coscia del bagnale ma quale parte esattamente la insomma lo sucolo? questa parte ma aaa devi sapere che è il princip stato anche campione europeo di motonautica infatti ci ho All'epoca, guarda questa, oh, da azzurro, azzurro di motonautica. Sono principe azzurro. Venga, oggi è fornito. Sì, tra l'altro prego. Svuotavano. Guarda lì, in carrozza. Questa è la sala delle grottesche di Cesare Paglione, qua siamo a metà del Cinquecento. Spara di Anish Galdello. Formata di Anish Galdello. Su presente. Lontano. Grazie a tutti.